Dragon Ball GT Collection e Goku fra dieci anni avrà trovato le sette sfere del drago e che fine avrà fatto Pilaf? Dragon Ball GT Collection, la serie mai trasmessa in tv è già in edicola, con la prima video, il fascicolo e le prime GT Cards a sole 6.900 lire. E per tutti gli appassionati, Dragon Ball Z Collection, la prima video con poster a sole 6.900 lire. Dragon Ball GT e Dragon Ball Z Collection, due collezioni galattiche. Un'esclusiva di Agostini. Un'esclusiva di Agostini.